che vogliamo dedicare a tutti gli sportivi, gli amanti della Ferrari, speriamo che finalmente quest'anno vinca il campionato andiamo con Testa Rossa, signori Polka, dedicata agli amici di Piove di Sacco, con simpatia dedicata anche all'amico Rossi e comitiva a Enzo Ione Piove di Sacco Per questo motivo vi chiamo a tutti gli amici di Faenza, ci siete ragazzi? Eccoli qua! Via! E' partito Elvio Rosini! Ragazzi questo è il carino di Romagna, eccolo qua! Elvio Rosini! Anche Madarelli non è da meno, eh? Sta arrivando piano piano Così tutti insieme! Via! E questo è l'uomo lisio del gruppo italiano! Signori di Testa Rossa! Grazie! Siete molto gentili!